Amici di TeleG, buongiorno, ben ritrovati per una nuova puntata del nostro quotidiano Salottino. E' tornata a trovarci finalmente, dopo un po' di tempo di assenza, l'onorevole Desiree Manca. Buongiorno, onorevole. Adesso era da tanto che non glielo dicevo. Ma lei sa perfettamente che insomma... Non c'è chi è. Lo so, però, mi perdono, me ne ero anche dimenticato, era da tanto che non veniva a trovare. Desiree va benissimo, buongiorno. Mi sento come sta? Benissimo, sempre bene. Tutto bene? Tutto benissimo, grazie. Quindi, se sta bene di salute... Guardi, quando mi chiedono come sto io, sto sempre benissimo. Allora, visto e considerato che stiamo parlando di salute, tutti questi ultimi movimenti in regione, Sassari, Scippata, C'è della Sede, ecco, cosa sta accadendo? Anzi, che cosa è accaduto e cosa si prospetta? Questa è una bella domanda che dovrebbe porre a chi sta governando la regione Sardegna. La cosa carina è che qualche giorno fa, leggendo i quotidiani locali, ho appreso che ci sono dei consiglieri che fanno parte della maggioranza, per cui di chi sta governando la regione Sardegna, che, insomma, si sono ribellati, sembrerebbe che si siano ribellati alla decisione da parte del nuovo commissario della Reus di, sembrerebbe da quanto abbiamo letto, di trasferire la vecchia sede della TS, adesso diventata Reus, da Sassari a Cagliari. E quindi leggevo queste dichiarazioni da parte di un consigliere territoriale nostro, che, insomma, appunto dichiarava che era meravigliato, sconcertato, che non erano, insomma, decisioni da prendere, che avebbe comunque rappresentato un ulteriore atto contro il nord-ovest della Sardegna, contro la nostra città. E io, quando ho letto questa notizia e queste dichiarazioni, le devo dire la verità, ho sorriso, perché a volte ci si dimentica che forse si fa parte di chi? Della maggioranza dei partiti che in questo momento stanno governando la regione Sardegna. E ci si dimentica che il commissario che è stato, appunto, nominato da loro, a capo della Reus, tra l'altro un commissario di importazione, perché evidentemente qualcuno ha imposto loro di avere questa persona, questo ruolo, qualcuno ha imposto loro questa decisione, questa nomina, ma ci si dimentica che questo commissario è di espressione della coalizione di maggioranza e di chi in questo momento sta governando la regione Sardegna. E come dire, io nomino una persona, poi questa persona che ha una nomina puramente politica prenda decisioni senza che io ne sappia assolutamente niente, insomma non ci crede nessuno. E allora quando si rilasciano determinate dichiarazioni, bisognerebbe prima pensarci e soprattutto chiedersi se effettivamente le persone quando leggono questi commenti ci credono davvero, perché non è pensabile che un commissario nominato da me prenda delle decisioni, io non ne sappia assolutamente niente, le prende addirittura in maniera contraria rispetto alla volontà politica da me espressa. Detto questo, io credo, e prendo posizione in questo, io credo che ai sasseresi, come alla maggior parte degli abitanti del nord-ovest della Sardegna, non gliene frega assolutamente niente di dove sia ubicata la sede dell'ATS, della vecchia EATS, adesso diventata chiamata perché ha cambiato nome, Areus. Io credo che ai sardi e ai sasseresi importi invece lo stato della sanità sarda, poi dove sia ubicata la sede che sia Sasseri, Alghero, Cagliari, Oristano o Nuoro, non ce ne frega assolutamente niente, l'importante è che nel momento in cui vado in ospedale il sistema sanitario funzioni e che le cure mi siano assolutamente, cure e terapie mi siano assicurate. Quindi tutto questo allarmismo, questa battaglia per cercare di assicurare la sede della vecchia EATS a Sasseri secondo me è solo ed esclusivamente il fumo negli occhi, cioè noi ci concentriamo su questa grande cavolata in modo tale che comunque la gente, i sasseresi, possano concentrare la loro attenzione su questa grande cavolata, poi se io vado in ospedale e non mi posso curare, chi se ne frega? Io credo che sia assolutamente il contrario, che i sasseresi siano talmente intelligenti da capire che questo è il fumo negli occhi, ovviamente. Invece per quanto riguarda questo benedetto bilancio, ma il sole quando sorge lì in regione? Il sole? L'adeguamento? Il sole quando sorge, che bella domanda che mi fa, guarda una domanda sempre anche questa che bisognerebbe porre a chi sta governando la regione Sardegna. Hanno portato una legge chiamata, la legge Omnibus, chiamata appositamente così perché evidentemente conteneva di tutto e di più e così si è dimostrato. Tenga presente che nel giro di dieci minuti e un quarto d'ora hanno presentato degli emendamenti di cui secondo me non conoscevano neanche loro il contenuto e il significato e che hanno fatto passare senza neanche avere il tempo di leggere il contenuto di questi emendamenti durante la discussione di questa legge. Ovviamente noi abbiamo votato contrario perché davvero non si è avuto il tempo. Tenga presente che il regolamento del Consiglio regionale prevede che gli emendamenti possano essere presentati agli uffici e quindi alla segreteria un'ora prima dalla discussione dell'articolo. Questo vuol dire che sono presentati ma poi gli uffici passano gli emendamenti, consegnano in forma cartacea gli emendamenti ai consiglieri regionali anche tre minuti prima. e quando lei vede 40, 50, 60 emendamenti che arrivano ed è chiamato a votarli dopo due minuti capisce bene che non ha neanche il tempo di leggerli. Quindi a scanso di equivoci siccome sapevamo già che avrebbero cercato di far passare di tutto di più noi abbiamo votato in maniera contraria a tutti gli emendamenti presentati. però sono loro che governano quindi i numeri ce li hanno loro. Un'ultima domanda per quanto riguarda la lista della spesa con tutti i soldi che devono piovere in regione Lei conosce qualcosa? Lei ha mai letto questa lista? Sono qua per chiederlo io a lei. No, guardi, io sono qua per dire e comunicare che non lo sappiamo nel senso che questa giunta che sta governando la regione lavora in maniera assolutamente isolata, non trasparente, per niente comunicativa quindi non c'è nessun tipo di rapporto tra chi sta governando la regione Sardegna e prende quindi le decisioni, le porta avanti e chi in questo caso come me rappresenta un partito di opposizione. Tenga presente che noi abbiamo provato tante volte a proporre proprio con delle proposte di legge con delle emozioni anche delle soluzioni importanti che avrebbero magari risolto problemi importanti per i sardi ma non c'è nessun tipo di comunicazione, non è stata mai mai discussa una nostra proposta di legge mai discussa una mozione in quasi tre anni per cui c'è un modo di lavorare da parte loro guardi, lavorare è una parola grande per loro un modo di agire da parte loro che insomma denota una voglia di fare solo ed esclusivamente nel loro esclusivo interesse i fatti parlano, le leggi che loro hanno portato in consiglio regionale parlano da sole sono solo leggi che rappresentano delle scelte politiche per le nomine dei loro amici questo la realtà parla quindi i sardi non sono stupidi, se ne rendono conto Desiree in chiusura 30 secondi come lei saprà oramai siamo a diffusione regionale grazie a Dio abbiamo abbandonato il digitale terrestre per approdare finalmente su tutto il territorio regionale le do 30 secondi di tempo per poter formulare gli auguri di Natale a chi la sta guardando in questo momento che cosa augurare? Guardi, io quello che vorrei comunicare al mio popolo di cui non dimentico mai di farne parte a parte gli auguri per un sereno Natale ma questa è una frase un po' fatta quello che io vorrei è che ciascuno di noi non si dimenticasse mai delle persone che ci stanno a fianco e che hanno davvero necessità di aiuto io credo che tutti i giorni non solo quello di Natale debba rappresentare un giorno in cui ci si domanda se effettivamente siamo da soli e ci sono persone che hanno necessità di aiuto quello che io cerco di portare avanti quotidianamente è questa voglia di non chiudermi mai gli occhi e di cercare di dare una mano alle persone più fragili e le persone che hanno davvero necessità quello che io auguro è che davvero i sardi e le persone che hanno la possibilità di aiutare le persone più fragili lo facciano e soprattutto non si chiudano gli occhi per non vedere grazie, grazie a voi spero che il suo augurio possa essere condiviso sicuramente da tutti perché effettivamente ce n'è tanto bisogno di aiuto e molto spesso basta guardarsi solamente di fianco per vedere quanta sofferenza c'è in giro e quante necessità ci sono in giro io formo a lei i nostri migliori auguri grazie, ricambio e a proposito di ricordare come ho detto prima avete pensato non solo al telefonino ma per continuare a guardarci di sintonizzare da web ovviamente i vostri smart tv con quella parolina famosa www.telegi.tv per poterci continuare a seguire comodamente non solo ormai dai telefonini e dai tablet ma anche dal vostro divano www.telegi.tv grazie per essere stati con noi